La gravidanza è un momento particolare nella donna che porta con sé tanti cambiamenti estetici e funzionali. Esperta in scienze motorie, master in ginnastica a preparto e allenamento in presenza di sindrome dolorose nel pre e post parto. Clara Verzini aiuta le mamme a prendersi cura del proprio corpo durante tutta la fase della gestazione e dopo la nascita del loro bambino. La gravidanza è uno dei momenti più delicati della vita di ogni donna e in questo periodo la donna si sente più fragile e preoccupata per la salute del bimbo che porta in grembo. Anche noi professionisti del movimento in gravidanza ci siamo dovuti adattare a questo nuovo cambiamento reinventandoci e creando nuove tipologie di allenamento che spaziano da lavori di gruppo o personalizzati sia per la gravidanza che per il post parto. È vero questo comporta una maggior cura nel trasmettere da parte nostra di trainer maggiore empatia a voi future mamme. Però trovo in tutto questo un lato positivo in quanto potete tranquillamente gestirvi il vostro allenamento, la vostra seduta personalizzata o di gruppo tranquillamente da casa. La casa favorisce un maggior comfort e sicurezza per voi quindi non scoraggiatevi. Ovviamente sempre sotto stretto controllo della ginecologa o di un'ostetica create il vostro programma di allenamento insieme a un trainer specializzato. Volevo inoltre ricordare alle future mamme che l'allenamento in gravidanza non serve solo per non ingrassare ma comporta tantissimi benefici quali un aumento della fiducia in voi stesse, un controllo della respirazione che servirà durante tutta la fase della gravidanza ma soprattutto nel travaglio, una sensibilizzazione chiamiamola così dei muscoli profondi e un aumento del tono muscolare dei muscoli superficiali. Praticare attività fisica durante la gravidanza aumenta la produzione di endorfine. L'endorfina è sinonimo di felicità. Una mamma felice trasmette serenità e buon umore al proprio bambino. Vi saluto, mi raccomando, continuate ad allenarvi. Un saluto alla dolcissima Sara e tutti gli amici di Beauty Advisor. Grazie a tutti. Grazie a tutti.